Ciao sono Shani, benvenuto o benvenuta sul mio canale. Ogni mercoledì e sabato pubblico dei video sul mondo del beauty, sul makeup, skin care e capelli per fornirti la mia più sincera e onesta opinione sui prodotti che provo e per farti risparmiare tempo e denaro. Nel mio canale troverai anche dei mini tutorial, delle mini review, dei consigli utili su come truccarsi e anche dei video chiacchiericci. Ho deciso di creare questo canale per condividere semplicemente la mia esperienza in questo campo con chi mi guarda e mi ascolta. Ti invito ad iscriverti al mio canale, ad attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornato o aggiornata sui video che escono e sulle novità del makeup del momento. Per ora ti saluto e spero tanto di averti nella mia community. Ciao!